Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 7 agosto, vediamo quali sono i temi fondamentali dei giornali. Insomma, sul lockdown ne parleremo tra poco, è uno dei grandi temi dei giornali che mi fa venire il sangue al cervello. Però l'altra questione fondamentale, molto più seria, è quella del divieto dei licenziamenti. Allora, quello che è successo è che questo governo ha reso le cose ancora più complicate. Allora, è sempre tutto complicato. Allora, se voi siete una persona normale, non potete praticamente fare nulla in questo paese, perché ci sono regole su regole su regole, l'imprenditore non è considerato una persona normale, l'imprenditore è un cazzone che pensa di mettersi a disposizione, questo, del governo per poter fare i suoi affari. E quindi gli hanno fatto la regoletta dei licenziamenti, prima lo chiudono, prima gli dicono che non può lavorare, poi gli danno le norme sanitarie, poi gli danno i distanziamenti della minchia, poi gli dicono che può riprendere, tutto questo che codice a teco, poi gli danno la cassa integrazione, in realtà la danno i suoi dipendenti che peraltro in gran parte ha pagato lui con le sue imposte, e poi gli spiegano che non può licenziare, come se l'imprenditore non vedesse l'ora di licenziare. Un imprenditore, toc toc, non vede l'ora di assumere, di fare più soldi, di aumentare il fatturato. Invece l'idea congeniale a una certa sinistra landinesca è quella di licenziare. Qual è il compromesso? Che è una specie di sudoku. Allora, se prendi la cassa integrazione ancora per i prossimi 18 mesi, puoi non licenziare fino al 15 novembre. Se invece non la prendi puoi licenziare, però attenzione, perché i licenziamenti collettivi, cioè che sono quelli di crisi d'azienda, non si possono fare fino al 31 dicembre. E come dire a uno, senti, siccome sei anoressico non mangi. Cosa vuol dire? Se sono anoressico non mangio. Oppure a uno gli devi dire, senti, a te ti piacciono le donne, cambia idea, cambia idea, non ti danno più piacere le donne. Cioè questi pensano di, attraverso una legge, chi è che lo scrive bene oggi? Cioè lo scrive bene Vescovi, il presidente dell'industriale di Vicenza, uno che evidentemente conosce bene le aziende, a differenza del 96% di quelli che ci governano, che le aziende le hanno viste col binocolo così da lontano, e l'unica che hanno visto probabilmente è quella che si occupa della gestione dello stadio di Napoli. L'intervista a Vescovi dice che non si costruiscono posti di lavoro per legge, che è una cosa di una lampante semplicità, ma che non è chiara a chi ci governa, che si è inventata quest'idea dei licenziamenti, sui quali tutti quanti, ma tutti quanti, sono concordi che è una minchiata stratosferica. Maurizio Ferrera oggi, sulla prima pagina del Corriere della Sera, scrive il pezzo forse migliore, più completo. Incentivare l'incertezza sulla disciplina dei licenziamenti, inoltre, rende anche più difficile assumere. Cioè se tu mi dici, guarda, oggi cambio qua, oggi cambio là, eccetera, poi alla fine, col cavolo che assumo, io nella mia azienda editoriale, quante persone devo assumere sapendo che una volta mi danno uno sgravio, poi me lo tolgono, poi devo chiamare il consulente di lavoro, poi devo fare il DURC se c'è un dipendente, se c'è un collaboratore, invece no. Ragazzi, questi sono scemi, non hanno capito che l'unico lavoro che hanno trovato è quello che hanno creato a loro stessi da scappati di casa diventando parlamentari. Smontano il Jobs Act, dice giustamente oggi Ferrera. Unico paese in Europa, tranne la Slovacchia, a fare il blocco dei licenziamenti. Peraltro la Slovacchia, che non è esattamente l'Italia, l'ha fatto per un tempo brevissimo. Allora, il modello italiano di cui ci riempiamo la bocca sui licenziamenti è unico al mondo. Vorremmo insegnare forse a tutti al mondo come non licenziare. Tra l'altro, nota Ferrera, il problema in questo paese non è tanto i licenziamenti, è che noi non creiamo posti di lavoro, non da oggi con questi cazzoni al governo, ma anche da ieri, perché la mentalità è quella dei Landini, è quella del PD, è quella della sinistra, per cui i lavori o si fanno attraverso decreto, cioè si assumono 50.000 nuovi professori come fa l'Azzolina, o lavori produttivi. In questo paese non ci sono mai stati difendere il lavoro che c'è, invece che promuovere quello che non c'è. Questo è il principio sacrosanto in questo paese di morti di sonno. Vi segnalo poi Gervasoni, che dice che la mentalità di questi qua è neanche da anni 70, commentando un'intervista incredibile di Landini ieri, Mazzucato, Landini, Conte, cioè una genia di persone che il lavoro lo conosce, un po' come, posso conoscere io, Marte. Bentivogli sul foglio, che è un sindacalista intelligente, sarebbe anche interessante da leggere, perché le sue posizioni sono sempre interessanti e il titolo è fatto molto bene dal foglio, ma è illegibile, non scrive bene in italiano. Io ho affetto nei confronti di Bentivogli, ma purtroppo Bentivogli, fammi capire, le prime 40 righe non ci ho capito una minchia. In realtà i nostri giornalisti, Bentivogli è un sindacalista prestato al giornalismo, insomma passategli i pezzi, perché sarà sicuramente un pezzo interessante, ma io non mi posso rovinare la mattina per capire che vuole dire Bentivogli, di cui sicuramente condivido il principio. Manacorda sulla Repubblica dice che si evita che a settembre si presenti come rischio a esplosione sociale. Anche questi evidentemente sono dei matti. Ma scusatemi, ma allora se tu dici che, voglio dire, non fai licenziamenti a settembre, ma li fai a settembre, ottobre, novembre, dicembre, c'è una sorta di mitridizzazione della protesta sociale. Quindi ti incazzi un po', ma non troppo. Quindi un po' a settembre, un po' a ottobre, un po' a novembre, un po' a dicembre. E poi vorrei chiedere, ma voi avete lavorato in un'azienda che licenzi? Se io purtroppo sì, quando un'azienda sta per licenziare, o comunque sta nella merda fino al collo, quelli che ci lavorano dentro non è che stanno contenti, dicono, ah, sai che bello, adesso sto ancora due mesi qua. Hanno perfettamente l'idea delle ore contate. Tic toc, tic toc, tic toc. E secondo voi quelli consumano, comprano il lavatricio, comprano il frigorifero blu, oppure stanno là che sanno che sono dei morti che camminano da un punto di vista lavorativo? Ma questi sono proprio... Cioè, veramente, io mi chiedo, ma è il buonsenso? Non è l'economia, è il buonsenso. Comunque noi siamo l'unico paese, tranne la Slovacchia, in tutto il mondo, ad aver deciso che il problema è risolto. Basta bloccare i licenziamenti. Nel frattempo arriverà questo bonus d'agosto, questo decreto d'agosto. Buffagni voleva dare un bonus ai ristoratori, ne abbiamo parlato qua nella zuppa. Secondo me questa cosa che tu pagavi con la carta di credito e loro ti facevano il 20% di prezzo in meno, quel 20% era a carico dello Stato, secondo me era una barzelletta. Buffagni ci ha provato, ma in realtà questi hanno preferito che cosa fare? Gli sgravi a chi assume al Sud! Che è un'altra grande minchiata, lo dico da meridionale, che ci siamo inventati negli ultimi 50 anni. Non è certo una notizia. La sinistra pensa che gli sgravi al Sud siano la panacea. Mattino, Corriere del Mezzogiorno, Messaggero, tutti i giornali mediterranei pensano che questa sia la panacea. Questa è una stronzata. E ve lo dice chi ha un'azienda al Sud, come il sottoscritto. Ve lo ricordate l'olio? Quell'olio tenuto a Rasciatano. Andate sul sito, vigne di Rasciatano, olio di Rasciatano, Rasciatano. Ne vendiamo tantissimo di olio, via email, via commercio elettronico, via persone che vengono in azienda da noi. Ma secondo voi, in realtà, che cosa fa? Il mercato ci fa permettere di assumere o l'idea che ci fanno un 30% di sconto sui contributi nei prossimi anni? Noi assumiamo una persona in più e ce lo sposiamo per tutta la vita, secondo voi, se non c'è il mercato. Se comprate l'olio, io assumo col 30% in meno. Ecco, mettiamola così. Siete d'accordo? Così mi sono fatto un po' di pubblicità alla mia tenuta a Rasciatano. Olio, ex vergete d'oliva. Mettete un po' di pomodoro, un po' di mozzarella, un po' di olio sopra e state a posto. Questa è la logica per la quale risolviamo i problemi del Sud con la Tarantella. Nel frattempo, straordinaria intervista a Speranza, il ministro della Salute, che alla stampa confida la seguente questione. Appello ai giovani, fermate il virus. Vedo troppe periscena, discoteche. Ma quale discoteche? L'avete chiusa le discoteche? Non si può più andare alle discoteche. Manco Ibiza possiamo più andare alle discoteche. Locali notturni affollati, assembramenti di ogni tipo. Allora, io vorrei spiegare al giovane vecchio Speranza, 41enne che forse ha passato più vita nelle sedi di partito, ma purtroppo quelli sbagliati, cioè quelli della sinistra estrema, che stavano là forse a non capire cosa pensano i giovani. I giovani li abbiamo chiusi a casa. Non avranno un lavoro. Probabilmente li abbiamo chiusi l'università e la scuola. L'anno scorso l'abbiamo fatto sicuramente. Non gli diamo grandi chance, diciamo, di elevazione sociale. Non gli permettiamo adesso di prendere l'aperitivo di cena. Gli stiamo dicendo che è colpa l'ora se oggi circola il virus. Tra l'altro gli abbiamo fatto un culo così. Non gli diamo un futuro e questi non possono manco uscire la sera. Io dico, questi sono veramente, vivono 41enne, Speranza. Scusami, ma di che cosa stai parlando? La socialità è la cosa forse più importante che un ragazzino può avere dai 16 ai 20 anni. La socialità non è soltanto attaccarsi un francobollo d'extrasi in bocca. Socialità è vedere gente, trovare una donna, rimorchiare, prendersi una birra, andare in giro, scambiarsi un'idea. Lui vorrebbe tutti il lockdown, tutti quanti con la craviattina, un po' come il signor Speranza nelle sedi dell'EU, del Partito Comunista del 2020. Grazie al cielo c'è gente che si fa il gin tonic, si fa il mojito, si fa uno spritz. Grazie al cielo. Poi dopo ci saranno quelli che ci dicono ma nonno, che stai dicendo, devono stare attenti. Beh, sono tutti facili. Quando c'hanno lo stipendietto e la pensione stanno a casa, stanno tutti quanti tranquilli con le loro mascherine. Questi qua, che cosa gli facciamo fare? Colpa dei giovani, mosse circola il virus. Straordinario. Nel frattempo, questi geni, lo dice bene Totti, oggi sono furibondo, trasporti bloccati. Allora, dice Totti, ma come dicono tutti i presidenti della regione, voi dite che deve riprendere la scuola e già non si capisce come con questa azzolina che è un'altra che invece di andarsi a prendere il mojito è diventata ministro. Proprio diretta la questione, è passata direttamente dal mojito al ministero. Spero che se lo sia preso. Beh, dicono non dovete andare al distanziamento di un metro. E Totti fa Toc Toc! Governo! Ma non lo fa solo Totti, lo fanno tutti i presidenti della regione. Dicono, scusate, ma a scuola come ci si va? Al lavoro come ci si va? E se voi sfalsate gli orari tra uno e l'altro come si va? E le mamme che lavorano, quelle poche che lavoreranno, come faranno a gestire i figli? Questi sono temi che non vengono affrontati dal sacro sinedrio dei nostri, come si chiama, governatori. Perché poi il vero punto è che sono stati desecretati i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. E' una balla! E' un giochetto che ha fatto la Fondazione Inaudi con Casalino. Cioè, prima hanno fatto finta che li secretassero. Non hanno fatto, l'hanno fatto davvero. E poi la Fondazione Inaudi si è battuta per avere I. E poi ringrazia Conte che gli ha dato. Benedetto, caro amico mio, caro Presidente liberale della Fondazione Inaudi, non è così. Non ringrazio il sovrano perché ti dà tre verbali. Tutti i verbali dovrebbero essere pubblici. Non si riesce a capire perché una fondazione debba ringraziare per una cosa che ci è concessa. Concessa. Ti ricordi quando ci si spiegavano le costituzioni octriate? Cioè, che ci venivano concesse dall'alto? Ecco, questi ci concedono qualche cosa che dobbiamo sapere. Ma cosa c'è nei verbali? A parte la spiccia polemica di cui veramente se siete interessati leggete Corrado Ocone sul sito nicolaporro.it che scrive tutto. Quello che io dico è che questi verbali segretati vengono letti da alcuni giornali. Avete visto? Il Comitato Tecnico Scientifico voleva chiudere solo alcune regioni e invece il governo ha chiuso tutto. E il Fatto Quotidiano dice è questa. Cos'è che riesce a studiare? Cinque verbali boomerang su Salvini. Quelli c'hanno un problema non di coronavirus ma di Salvini nella loro testa. Codice di procedura penale e poi c'hanno una specie di preservativo che intorno al codice di procedura penale rispetto ai giornalisti del Fatto Quotidiano mette Salvini che è una specie quella reula vi ricordate dell'AIDS celeste? Salvini è quella roba lì che c'hanno tutti i giornalisti del Fatto li vedete perché c'hanno Salvini intorno alla testa non le corna Salvini intorno alla testa. Cazzo c'entra Salvini adesso con i verbali. Comunque sia lasciamo perdere il Fatto Quotidiano il punto dei verbali è che questi volevano chiudere alcune regioni ma invece quelli hanno chiuso tutta l'Italia. Falso perché loro volevano chiudere alcune regioni solo dieci giorni prima del fatto che Conte e gli altri hanno chiuso tutto quindi quelli dicevano prima chiudiamo le regioni quello ha aspettato dieci giorni e ha chiuso tutto insomma potete vederla come vi pare quello che invece ha ragione il giornale mancano carte sull'istituzione delle zone rosse cioè le vere cose imbarazzanti non sono state iscritte e in queste carte peraltro c'è scritto che nel pieno dell'emorragia nel pieno del disastro della pandemia erano divisi sulle mascherine ora ci rompono le balle a noi che diciamo forse all'aperto non si devono usare le mascherine loro a marzo quando c'era il gran casino scrive il giornale erano divisi sulle mascherine cioè oggi ci ammazzano se non mettiamo le mascherine ci considerano negazionisti se non le usiamo all'aperto loro nel vero grande casino erano divisi e che so negazionisti non mi spiegate che le mascherine sono un'invenzione del 2020 visto che è dal medioevo che si usano i modi per tapparsi la bocca per evitare i contagi ma comunque oggi questo è Cimmino è molto divertente sul mattino l'amministratore di Yamamai dice ragazzi scusate nel frattempo non avete chiuso avete chiuso il sud insieme al nord abbiamo perso 100 miliardi sulla questione libanese io vi invito tutti quanti a leggere uno straordinario pezzo del regista Dueri stupendo ex produttore voglio dire aiuto di Tarantino in Pulp Fiction oggi lui scrive una cosa straordinaria la colpa di tutto comunque deve essere messa in capo a Hezbollah che sono dei terroristi che governano con la corruzione e con la poca trasparenza questo paese da anni e l'hanno distrutto un paese senza libertà questo è libero per colpa di Hezbollah e dice il problema degli Hezbollah sono gli stessi che hanno ucciso Eriri il presidente che era riuscito un po' a unire questo paese e hanno fatto finta che fosse un incidente poi il 7 agosto fra pochi giorni dovrebbe arrivare la sentenza e scrive sempre due in Italia gli Hezbollah li considerano un gruppo romantico i Che Guevara del Medio Oriente che lottano contro l'imperialismo americano vi ricordate quando D'Alema andava in giro con Hezbollah tutti zitti e pipa beh poi pensare che Di Stefano possa sapere chi siano gli Hezbollah è difficile posto che non sa neanche dove è Libano e lo confonde con la Libia Libano e Libia ma comunque passa soltanto Macron che viene sfottuto dai nostri giornali un po' meno dal foglio che considera sempre la Francia la madre tenera dei libanesi ultima cosa che vi voglio segnalare è politica italiana alla destra un nuovo leader secondo il foglio se ne accorge anche il foglio si chiama Lameloni secondo il foglio che anche loro c'erano quell'areola più di Salvini come quelli del fatto la coalizione che ha sbianchettato il salvinismo ecco l'ha sbianchettato il salvinismo Farina sul libero dice Rampini e io condivido con Farina uno dei pochi giornalisti di sinistra che pensa con la sua testa grande idea del decreto semplificazioni pensate un po' voi che cosa semplificalo non si potrà trivellare in Italia dice MF financo coloro che hanno chiesto già e ottenuto le autorizzazioni non potranno trivellare complimenti ai nostri amici della decrescita felice che tra mascherine lockdown e mancanze di trivelazioni economia green firme che mancano per la gronda ci faranno andare nella merda ma comunque come dice Speranza la colpa è dei giovani che si fanno l'aperitivo dovete stare a casa zitti e muti ciao